21 marzo 1931 nasce alda merini poetessa e scrittrice italiana la vita di alda merini è un eroico e perpetuo passaggio da un manicomio a una vita normale in cui conosce anche la felicità e la tristezza dei matrimoni e la nascita di tre figlie molte delle sue poesie parlano dei personaggi della sua vita dei suoi mariti dei medici che l'hanno curata degli incontri con altri poeti e scrittori che l'hanno amata e rispettata giacinto spagnoletti salvatore quasimodo giorgio manganelli alda merini muore a milano il primo novembre del 2009 lasciando un immenso patrimonio letterario grazie